dai che in po' Gildare, tiraci in bacetto con salutino ciao belli, oggi faccio un dolcetto, faccio dei dolcetti allora, qua 300 grammi di farina, vedete, eccolo poi 120 grammi di burro, eccolo qua, ho tagliato a pezzettini ecco qua, poi metto 130 grammi di zucchero poi, e un uovo con l'albume e un rosso, ok? e un tuorlo, ecco qua, praticamente un uovo con la chiara e uno senza e poi metto la fialetta al limone ecco qua, vedete, però potete mettere pure il limone grattugiato, eh a piacere vostro a piacere vostro, come ve va a voi ecco, adesso vado a impastare poi, se dovesse servire un altro uovo, uovo ce lo mettiamo però, di solito, oggi però io vedo tanto piccoli sto, va eh, vedete con le mani così, dovete andiamo a vedere il burro deve essere ammorbidito, eh il burro deve essere ammorbidito temperatura ambiente, giusto? temperatura ambiente, tagliato a pezzetti e poi lo fate ammorbidì, così si ammorbidisce subito perché se andate di corsa, non c'avete tempo, almeno che dolcetto ce farà, girdarella dopo l'impasto che faccio vedere subito il burro quanto tempo tiri fuori, teppo? prima dal frigo? no, sì, ma io quando ti fa un dolcetto un'oretta prima sì, quando io mi ricordo tiro fuori, eh ma pure in quanto d'ora prima, venti minuti quant'è carina, girdarella un'amore girdarella girdarella ecco qua ormai fai coppia fissa con sta coroncina non te la levi più lasciamo sempre questa certo che pure le latte erano carine non so forse questa ti dona un po' di più tutta brilloccosa è certo allora, in primo momento sembra tutta sbriciolosa però impastate bene ecco qua vedete? allora, qui che ci avevo delle barchettine sì che famo facciamo è roba buona, eh già lo so le frustatine poi ve le faccio vedere con la frutta con la frutta allora, qui che ci ha messo? un po' doietto, gildarella? sì quelle sue formine guardate come è presa sembra che sta a dipinge eh sì se sei matta che sta a dipinge? sotto la formina che ci ha messo? burro, farina, niente che ci ha messo? un pochettino di olio e ci ha messo un po' di farina non si attaccavano è uguale però io per sta più tranquilla ecco qua vedete? vedete ragazzi? ecco qua e voilà e voilà e voilà non le vado a cuocere e vai e vai si si non le vado a cuocere ecco qua e voilà metti in forno gildare? sì ci rimetto l'altro va bene? eh un po' per volta temperatura? 180 per? più in quarto d'ora mi regolo regolatevi perché io faccio tutto un po' a occhio buttateglielo in occhio così invece bruciano non le metto a 180 poi abbasso un pochetto le rialzo vedo insomma comunque un quarto d'ora perché queste si cociono subito no ma forno vai mi tocco qua che devo riempirsi i torcetti allora allora qui abbiamo la crema la crema allora quattro aspetta già mi sono scordata tutto ecco ti pareva ecco qua allora 400 ml di latte 100 ml di panna liquida 150 grammi di zucchero e 6 tuorli d'uovo 30 grammi di farina 00 e 10 grammi di amido di mais o fecola di patate insomma quello che c'avete e vanillina questo è il tutto per la crema poi qui mirtilli lamponi kiwi e fragole e adesso andiamo e qui c'ho la seringa cominciamo le mie barchettine vedete che belle guardate che carine che sono venute adesso andiamo a a far qualcosa di bello e allora dai e gildare vai su e andiamo che carine gildare che belle mamma mia già c'ho l'acquolina qua guardate un po' quanto so belle guardiamo un po' quest'altra come ce la fa gildarella è gelatina spray gildare sopra si eccola qua guardate che bella questa io già c'ho l'acquolina se può stare qui a guardare gildarella quello che fa e non aver fame ma come se fa ditemo voi voi potreste resiste ho i miei dubbi eccola guardatela quant'è carina all'opera eh te donasi inquadratura gildare zitti zitti non disturbiamo sta fa sta fa un quadretto gildare non è che sta fa un quadretto eh mi sconcentri tira un bacetto dai 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 facci un salutino su gildare pure questa è carina vabbè amore che belle e adesso che vuoi fare non mi ricordo eh devo fare un bel saluto a chi a Vanessa Gibelli ciao ciao alla nostra amichetta Vanessa ciao Vanessa bella ciao tesoro un bacione riguori ci hai fatto gildare che spettacolo guardate un po' brava brava guardate che meraviglia brava brava gildare potete capire quanto so buone io adesso le metto al frigo poi ce le mangiamo bravissima 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 gildare ma grazie ma proprio brava guarda grazie 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 vedete qui non è 10 lote qua è di più gildare vedete più di più ma sono veramente buoni guardate la crema è al bacio al bacio proprio proprio al bacio guardate che carini ha i frutti di boccio le faccio vedere pure ecco le fantasie le fantasie così è certo potete rubare mandate un po' che carine così quando le fate potete farle solo con una fantasia oppure tutte misse come ha fatto Gildarella si a me perché sono i gusti che piacciono Gildare ti so fare un inquadratura mamma mia se ve ne siete accorti di una cosa eh di che e allora aspetta che ti inquadro bene se non mi dici di mangiarla stasera è perché lo sai che c'è eh che non mi si vede ma c'ho l'occhio a cuore io qua e c'ho l'acquolina Gildare non mi lo dici ha capito e no perché me le sto mangiando io con l'occhio Gildare dai faccio questo assaggio al volo va Gildare no sei sicura Gildare no 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 queste vanno mangiate con calma vabbè vorrei dire che dopo quando sta a mangiare gli faccio il video e al pubblico eh di nascosto sì vabbè niente assaggio ok tanti baci belli e ditemi se vi sono piaciute peccato che non vi posso far assaggiare baci ciao belli ciao ciao sempre ciao